Ciao a tutti, sono Gianluigi Lippo, siamo su Passione Taranto, dove si parla delle questioni del Taranto Calcio e questa settimana abbiamo un po' di cose da commentare, un po' di fatti. Il primo più importante di tutti è sicuramente il rinvio della partita che si doveva giocare lunedì sera Taranto-Messina per le questioni relative allo stadio, per l'inagibilità dello stadio dovute all'incendio. Questo comporta delle conseguenze che sono negative, un po' perché il Taranto era in un buon filone di entusiasmo, in una buona corrente positiva che doveva essere sfruttata con l'entusiasmo e quindi questo si interrompe un po'. Poi perché è la squalifica di Cianci che sarebbe stata scontata contro il Messina in casa, una partita tra virgolette abbordabile, anche se non conosciamo nessuna squadra quindi non sappiamo se il Messina è forte o non è forte, tra l'altro il Messina ha giocato una sola partita di questo campionato e Cianci sconterà la squalifica a Benevento che è una partita sicuramente più difficile giocata fuori casa e quindi saremo senza il nostro attaccante migliore che si era sbloccato e quindi questo è sicuramente un fatto negativo. Il fatto positivo è che abbiamo più tempo per preparare la partita e per recuperarla, più tempo anche rispetto allo stesso Benevento. Giocheremo giovedì sera innanzitutto, giovedì alle 18.30 il pomeriggio, il Benevento invece giocherà domenica a Caserta, una partita impegnativa quindi il Benevento avrà pochi giorni per preparare la partita, il Taranto invece sta già preparando la trasferta di Benevento di giovedì. Quindi diciamo che tutto sommato questo è un fatto positivo, si può preparare bene. Che cosa possiamo dire dello stadio? Intanto il magistrato ha sbloccato con un'ordinanza, ha sbloccato il consulto che andrà fatto da un perito del comune per fare un report sui danni dello stadio e vedere poi i lavori che saranno fatti per far tornare il Taranto a giocare allo Iacovone. Diciamo che i tempi si stanno un po' allungando, i tempi burocratici. Il Taranto giocherà lo Iacovone contro il Cerignola il primo ottobre. C'è un fatto che sinceramente mi incuriosisce, è che in teoria, ancora molto in teoria, giovedì prossimo dovrebbe giocare il Brindisi a Taranto perché lo stadio Erasmo Iacovone diventerebbe lo stadio del Brindisi in attesa che il Fanuzzi termini i propri lavori di messa a norma per fare la Serie C. Quindi va bene tutto per il Taranto, diciamo che il primo ottobre si dovrebbe tornare a giocare, non si sa per il Brindisi come andrà a finire, i tempi si stanno un po' allungando. La questione stadio si incastra con la questione Melucci Ferrarese, il nuovo stadio che sarà costruito per i giochi del Mediterraneo. Ora sembra che dopo aver trovato un accordo la settimana scorsa, nella giornata di oggi ci sono state dichiarazioni in cui tornano un po' le tensioni. Io spero che facciano presto perché intanto si comincia a non capire che cosa sarà di questo stadio, dopodiché anche qui i tempi cominciano a diventare molto stretti, si devono necessariamente sbrigare. Sul piano tecnico invece, parlando della squadra, abbiamo le risoluzioni, finalmente le risoluzioni dei contratti di guida infantino che così vengono rimessi sul mercato, probabilmente hanno trovato squadra ma non avranno difficoltà a piazzarsi. E poi la notizia della partita di Coppa Italia, il Talento è stato accoppiato ancora al Picerno, quindi torneremo a Picerno a giocare la partita di Coppa Italia, gara secca, o vinciamo o perdiamo, siamo fuori. Se passiamo questo turno incontreremo la vincente della sfida tra Catania e Messina, quindi ancora una partita impegnativa. E quindi vediamo di tornare a parlare di calcio giocato. Quindi in attesa di capire che cosa sarà del nostro stadio, attendiamo i risultati di domenica e lunedì e poi prepariamoci alla sfida di giovedì alle 18.30 a Benevento. Io intanto vi invito ad iscrivervi al canale, mettere like a questo e agli altri video e vi auguro sempre una buona serata e sempre Forza Taranto!